bentornati in questo canale per parlare come avevo promesso del fu mattia pascal sia riguardo alla sua struttura sia ai temi principali di questo romanzo allora adesso partiamo prima dei temi li esaminiamo per bene e così poi possiamo passare dalla struttura diciamo che su questo romanzo la famiglia viene vista come nido o come prigione mentre la famiglia in cui mattia pascal nasce è rappresentata come un nido e un rifugio minacciata dall'avidità dell'amministratore batta malagna la vita coniugale con moglie suocera è considerata una prigione soffocante che lascia come unica alternativa la fuga e l'evasione il motivo si ricollega alla vicenda autobiografica di pilandello all'idealizzazione della famiglia e della figura materna contrapposta all'infelicità della vita matrimoniale mattia pascal confessa che nella prima parte del romanzo che in gioventù era inetto a tutto e gli aveva lasciato che la vita gli scivolasse addosso e che non era stato capace di imporsi per sposare la ragazza amata solo con la fuga da casa sembra superare la sua iniettitudine ma si tratta solo di una breve parentesi anche nei panni di adriano meis non riesce a uscire dalla sua passività ed è costretto a rinunciare ai suoi propositi mattia pascal è uno dei personaggi che meglio rappresentano la crisi d'identità dell'uomo del primo novecento come appare sia dal suo sdoppiamento sia da alcuni tratti fisici e psicologici che ripresentano lungo il corso del romanzo espressione della sua difficoltà e identificarsi con se stesso sono il suo occhio strabico e la sua tendenza a porsi spesso davanti allo specchio ecco adesso che abbiamo detto i temi principali passiamo alla struttura diciamo che il fumati a pascal è composto da 18 capitoli che si possono essere suddivisi in quattro parti la prima parte è costituita dai capitoli primo e secondo rispettivamente la premessa e la premessa seconda a modi scusa nei quali il protagonista racconta in prima persona la propria trasformazione da mattia nel fu mattia commenta l'accaduto quando i fatti sono ormai avvenuti ed egli si trova estraniato dalla vita questi capitoli assieme ai capitoli 17 e 18 formano una sorta di cornice e possono essere avvicinati al genere dell'antiromanzo nella seconda parte invece corrisponde dei capitoli 3 e 4 e vi si racconta la giovinezza di mattia pascal all'interno di uno scenario idillico con una parabola discendente che lo conduce a sposare una donna di cui non è innamorato e a rimanere prigioniero di una vita coniugale opprimente invece nel capitolo 7 funge da snodo tra la seconda e la terza parte in quanto vi sono narrate la fuga e la vincita al casino che unite alla falsa notizia del suo suicidio permettono mattia di farsi credere morto e cambiare identità la terza parte invece occupa i capitoli 8 e 11 e ricalca il genere del romanzo del romanzo di formazione mattia pascal diventa adriano meis e cerca di costruirsi una nuova vita ma è costretto ad abbandonare il suo proposito in seguito a un furto che lo induce a riflettere sulla sua mancanza di identità e dunque costretto a tornare a miragno e quindi la sua si configura come una formazione alla rovescia la quarta parte occupa i capitoli 17 e 18 che riportano la storia al punto di partenza in modo circolare quindi viene spiegato come mattia pascal sia diventato il fu mattia pascal e come abbia rinunciato alla vita con questo è tutto e se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi mettete mi piace se vi è piaciuto il video e condividete il più possibile adesso vi saluto ciao e al prossimo video